Ciao ragazzi, ma come si fa ad arrivare alla partita di stasera fondamentale, perché sarà difficilissima questo quarto di finale con l'Atalanta, in una situazione del genere? Cioè, com'è possibile? Solo l'Inter riesce ad essere così masochista e a spararsi sui testicoli. Solo l'Inter. Abbiamo adesso una situazione che è ambientale clamorosa. Una bomba pronta ad esplodere, con Skriniar che è rimasto e rimarrà a Milano fino a giugno. L'Inter ha rifiutato l'offerta del PSG di una decina di milioni a spanne di due giorni fa. L'ha rifiutata perché è troppo bassa, vogliamo il rilancio, vogliamo più soldi. Ha rifiutato e Skriniar rimarrà e giocherà, perché dovrà giocare. Non abbiamo preso un sostituto. Darmian è un adattato, D'Ambrosio non dà più garanzie. Di fatto dovrà giocare ancora, anche perché l'Inter ha partite importanti e c'è il derby e c'è la Champions League, dove l'Inter può fare uno step in più oltre a quello che già ha fatto in più l'anno scorso, sempre con Inzaghi, che è da 12 anni che l'Inter non fa questi step della Champions. Quindi è una cosa importante. Ci sono partite e poi bisogna notare anche del campionato per arrivare magari secondi, eccetera. Quindi non è che si può pensare, vabbè, la stagione è finita, mettiamolo in tribuna e fine. No, sarebbe semplicemente folle, ridicolo. Anche perché l'Inter comunque, nel frattempo, ha rinunciato a soldi, almeno deve avere le sue performance da giocatore quale è sul campo, no? Che poi sarà anche pure difficile, perché è un giocatore che sarà bombardato mentalmente. Sarà anche, non so come potrà rendere. Quindi veramente, veramente una situazione allucinante. Oltre a questo c'è la piazza. La piazza, adesso i tifosi saranno impazziti, chiaramente. Non sapranno cosa pensare. Se la prenderanno con tutti e nessuno, anzi probabilmente se la prenderanno più col giocatore, sostanzialmente, da quello che vedo in giro. E questa cosa non farà bene né a lui, ma neanche poi alla squadra. Quindi sarà una situazione veramente allucinante. E potrebbe anche avere degli effetti anche magari su qualche risultato della squadra. Perché queste cose poi pesano, no? Queste situazioni. E poi magari ne fa le spese l'allenatore, che deve gestire una situazione così allucinante, causata non da lui, non da lui. Così magari prendersi pure le colpe a fine campionato per qualche risultato. Cioè, ragazzi, è veramente allucinante. Solo l'Inter. Solo l'Inter. Solo l'Inter. Io farei un calcio nel sedere a tutti quanti. Ma no, va allucinante. A tutti. Allora, quello che posso fare io però, il mio compito, che mi sono un po' dato da cinque anni a questa parte, è quello di provare a ragionare ed avere un approccio pragmatico, ponderato, equilibrato, anche per la sanità della nostra mente. Perché vedo che, insomma, il tifo interista è abbastanza malato, no? Ha dei problemi mentali importanti, da sempre. E quindi cerco un po' di fare da dottore. Nel senso, non di cose mediche, ma di ragionare. Perché con la consapevolezza e la conoscenza delle cose, che siano tattiche, che siano economiche, che sia il bilancio, che sia mercato o gestioni varie, con la consapevolezza di solito si sta un po' più tranquilli. Tu hai il panico, impazzisci o sei fuori controllo quando non conosci le cose. Quando non sai le cose e non sai che pesci prendere. Quello è la causa del male di solito. Perdiamo, ma non so esattamente per cosa, perché non ho questi strumenti tattici. Perché mi incazzo e sto malissimo. Ma se uno sa il perché, la vive in maniera diversa. Quindi cerchiamo di farlo anche sul discorso Scrinial. Partendo dall'inizio, perché la storia non parte adesso, non parte quest'estate, ma parte un anno e mezzo. Cioè, un anno fa. Parte in inverno dell'anno scorso. Ok? Ah, ragazzi, mi raccomando. Cioè, sfondate il tasto like, condividete il video e attivate le notifiche soprattutto. Perché tantissimi si perdono i video. Una marea di gente. Ma io ho i dati, una marea di gente. Attivate le notifiche, mi raccomando. Ora, partiamo da un anno fa. Scrinia. Scrinia era un giocatore fondamentale. Il miglior giocatore come performance media della scorsa stagione. Siamo ancora a dicembre, gennaio, eccetera. Gioca molto bene. Finalmente è tornato al centro del progetto con Inzaghi. Perché con Conte era comunque stato messo sul mercato. Nonostante lui avesse rinnovato senza gente. Non era reputato al centro del progetto, soprattutto il primo anno. Perché giocava a sinistra. Lo si era svalutato. Sembrava che non rendesse. Quando il primo era tattico di Conte che lo metteva fuori posizione. Ma vabbè, andiamo avanti. Poi l'abbiamo capito. Perché abbiamo visto il rendimento di Scrinia invece nel secondo anno di Conte. Ma soprattutto con l'anno scorso di Inzaghi. Il miglior giocatore della stagione con Perisic. Cosa succede? Succede che ovviamente la società si muove bene. Abbastanza bene. Cioè, ogni giocatore importante per il progetto, non vecchissimo e non giovane, ma titolare, magari pseudo capitano, trascinatore, inamovibile, va rinnovato. Ci si siede due anni prima del contratto. Questa è la norma della direzione sportiva, ragazzi. La norma base. Per un motivo, due motivi tecnici. Il primo è che se hai ancora un anno e mezzo, due di contratto del giocatore, hai il coltello un po' più dalla parte del manico. E il giocatore è difficile che possa chiederti cifre stratosferiche, ok? Quindi puoi trovare più facilmente un accordo se lo fai per tempo. La seconda cosa è se dovesse avere un procuratore che chiede l'ira di Dio, commissioni clamorose, stipendi allucinanti che non puoi permetterti, benissimo, hai ancora due anni e puoi cederlo al prezzo pieno, al prezzo pieno di cartellino per tempo, tranquillamente, ok? Senza farti prendere dal collo, da lui, dal giocatore, dalla gente, o da altri club, ok? Questo è. L'Inter inizialmente si muove discretamente. Cioè, un po' in ritardo, invece di due anni, un anno e mezzo prima della scadenza, ma vabbè. Termine ultimo. Come adesso c'è la Noglio e Bastoni. Giusto, giusto in tempo, caspita, perché forse abbiamo preso paura. Caspita, muoviamoci subito. Magari se no si aspettava l'estate anche per questi. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo avanti. L'Inter si muove. L'offerta è più o meno in quattro e mezzo. C'è anche l'accordo. Scrinier voleva rimanere all'Inter. Gli piace rimanere all'Inter. L'ha dimostrato con i fatti sul campo, quanto ci teneva la maglia, il trascinare, il gruppo, anche le performance, come giocava, la concentrazione, la tenacia, la grinta, tutto quanto, no? Non si è mai risparmiato un nanosecondo. Quando l'Inter ha avuto dei problemi, vedevi che trascinava. Lo vedevi. E infatti lui voleva stare all'Inter e avrebbe accettato quattro e mezzo. Quattro e mezzo, no, sette, dodici, quattro e mezzo. Ne prende tre adesso, ok? Cosa succede? Che la dirigenza però non lo rinnova, non formalizza l'accordo. Dice no, vabbè, sì, abbiamo un accordo, ok, ne parleremo. Male. Perché? La dirigenza di fatto ha fatto questo tipo di cosa, probabilmente perché voleva venderlo, aveva già in testa il sacrificabile, sarà lui. Invece di rinnovarlo adesso e poi trovarci al mercato in condizioni diverse, proviamo a lucrarci. Speculiamo. Cioè, non lo rinnoviamo adesso, così risparmiamo nella stagione corrente qualche milione di euro, perché chiaramente se rinnovi subito la metà della stagione, tipo a gennaio o dicembre, scatta uno stipendio diverso, quindi hai qualche costo in più. Ovviamente, attenzione, la differenza è da dividere in due perché sei mesi li hai già pagati col vecchio stipendio, quindi sarebbe stato un leggero aumento di stipendi, ok? Un leggero aumento di costi. E poi però ci sono anche le commissioni della gente, però un anno e mezzo prima del contratto, penso che Scrinia la gente potesse chiedere chissà che milioni di commissioni. Comunque l'Inter si è risparmiata qualcosina, così da poterlo vendere magari in estate a prezzo pieno senza aver speso due, tre, quattro milioncini in più tra stipendio già pagato di quei sei mesi più le commissioni. Quello, secondo me, è il pensiero che ha avuto la dirigenza. Senza contare il fatto che se rinnovi il giocatore prima, a quattro e mezzo, quando ti trovi in estate che magari tu vuoi venderlo, perché l'idea era quella di vendiamo Scrinia, è lui il prescelto, perché Lautaro non vogliamo toccarlo, Barella non vogliamo toccarlo, vendiamo Scrinia. O Bastoni, l'Inter ha provato anche... La difesa, la difesa ha provato a vendere tutti i tre della difesa quest'estate. Poi chiediamoci perché la difesa quest'anno non è al 100%, perché contano anche queste robe. Ma torniamo sul punto. Nel momento in cui tu rinnovi il quattro e mezzo a stagione scorsa, in estate è meno attrattivo il giocatore per altri club, nel senso che magari hai allungato il contratto fino a tre anni, quattro anni, eccetera, gli altri club per prenderti di Scrinia sanno che devono offrirti molto di più, molto di più, e in più devono dare a lui ancora di più di ingaggio rispetto ad adesso, che va via a zero, quindi non spendono per cartellino, possono promettere a lui tantissimo di ingaggio tranquillamente. Lì avrebbe dovuto pagare sia il cartellino tantissimo, sia dargli un ingaggio doppiamente alto, perché non padeva più tre, ma già quattro e mezzo, magari più bonus, quindi dovevi superare di più ancora l'offerta. Quindi le offerte sarebbero venute un po' più a rilento. Chiaramente l'Inter voleva vendere il giocatore, non era Scrinia che voleva andare via, era l'Inter che voleva vendere il giocatore. Quindi di fatto secondo me è stato un po' questo il calcolo che hanno fatto. Un po' a macchiavellico, anzi, scalcoli sbagliati di fatti, anche perché la cosa principale è che non hanno considerato l'importanza di Scrinia per la squadra, per la fascia e a livello anche di rosa, di importanza del giocatore per noi, a livello anche tecnico-tattico, eccetera, eccetera. L'hanno sottovalutato secondo me, questo l'ho sempre detto, è da un anno che lo ripeto. Per me Scrinia andava rinnovato, ma noi in estate, prima a cifre minori, perché era fondamentale per il progetto, era cardine per i prossimi anni. Ma lasciamo stare, andiamo avanti. Succede che siamo in estate, quindi. Scrinia di fatto viene, nonostante lui abbia rinnovato due anni prima, tre anni prima senza gente, abbia dichiarato di voler stare all'Inter e tutto quanto, viene comunque messo sul mercato. Il rinnovo, un po' mezzo promesso, non arriva, viene messo sul mercato della dirigenza e dichiarato sostituibile e sacrificabile. Testuali parole. Tanto l'Inter aveva già i sostituti, aveva già altri giocatori, quindi per noi non sei importante. Sì, se giochi, se vuoi stare con noi bene, sei merci di scambio. Questo è stato detto. Non sei il capitano per noi, non sei la colonna portante, sei una merci di scambio. Sì, l'Inter ha bisogno di cassa, ma la cassa vogliamo farla con te, non con altri, con te. Questo è. Il giocatore ha accettato questa cosa. Vabbè, basta, che devo dire? Mi avete messo sul mercato prima. Che mi fanno? Mi appendo ai cancelli? Mi volete andare via? Vabbè. Ok, accetto il PSG. Già in estate. È l'Inter che non ha accettato l'offerta del PSG. Non è il giocatore che aveva già l'offerta col PSG, ma voleva andare via a zero, per prendere di più, allora rifiuto di andarci adesso. No. È l'Inter che ha rifiutato l'offerta del PSG. Ok? E l'ha rifiutata perché ne reputava troppo poca, non lo so, e anche perché aveva perso Bremer. Perché tra i calcoli sbagliati c'è quello che hanno bloccato Bremer per tre mesi e alla fine sono arrivati gli altri prima e l'hanno preso. Perché non è che gli altri stanno fermi a spettare te. Quindi una serie di coincidenze, di calcoli totalmente sballati e sbagliati. Questo è stato. Questo è stato. Scrin non si incatena i cancelli e di fatto dopo averlo piazzato per tutta l'estate, il giocatore sa, non si considera più chiave del progetto. Sa che per l'Inter non è il capitano vero. Sembra quasi infatti che la fascia datagli sia stato tipo un contentino per provare a riconvincerlo. Ma dopo che l'hai messo sull'asta tutta l'estate, ragazzi, e non gli hai fatto il rinnovo ancora prima, quando c'erano già l'accordo a meno di oggi, è chiaro che il giocatore dice vabbè, mi faccio i cazzi di mei. Ma com'è legittimo? Com'è legittimo? Cioè qualcuno pensa ancora, perché poi il problema è di aspettative, qualcuno, c'è ancora qualcuno che pensa, si dice che non ci sono più le bandiere, però poi qualcuno in realtà sotto sotto si illude che ci siano i giocatori che rifiutano il quadruplo dello stipendio da un'altra parte, così, per amore. Dopo che tra l'altro non gli hai messi al centro del progetto, perché non è che ti ha tradito, e vada, sei al centro del progetto, sei il nostro capitano, ti vogliamo rinnovare, e no, no, guarda non rinnovo con voi e voglio andare via io. Non ha chiesto lui l'accessione. È diversa la cosa. Non fate paragoni con Icardi o con altra gente, che è veramente un insulto, un insulto al giocatore e un insulto anche alla vostra intelligenza e alla vostra memoria. Ma non vi ricordate sei anni di scrigna? Come si è comportato? Sul campo? Fuori dal campo? Il fatto che ha negoziato il rinnovo senza il procuratore, perché non voleva andare via? Ha dichiarato che voleva stare all'Inter e l'Inter l'ha messo in vendita. Non è lui che ha chiesto più soldi e di andare via lui fino a un anno fa. È il contrario? Boh, questo è il punto. Quindi, chi è stato più serio e meno serio? O chi è che ha fatto gli errori? O chi non li ha fatti? A voi il giudizio. Però bisogna ricordarli i fatti e non andare per partito preso. Ok? Solo perché l'Inter adesso è l'Inter in generale che ne paga le conseguenze, che perde un asset e tutto. Sì, ma non è che siccome perdi un asset, perdi soldi e quant'altro, allora la colpa è di Skriniar. Può essere che sia proprio dell'Inter che ha perso un asset, che ha gestito male un asset, che non ha fatto le cose giuste, ha fatto calcoli sbagliati, eccetera, eccetera. Prendiamocela con l'Inter, che poi non vuol dire l'Inter tutta, in zaghi, i giocatori, Skriniar, il proprietario. Ma chi decide le cose, chi gestisce il calcio al mercato è chi dovrebbe e ha la responsabilità e prende fior di milioni per gestire queste cose qua. Bisognava gestire in maniera diversa. Poi i giocatori, lo sai, che ha un anno della scadenza, sei mesi, hanno un potere contrattuale enorme di poter andare via. Soprattutto sono tutti i top player. È così per tutti i giocatori, vale per tutti i giocatori. È proprio per quello che non si arriva a un anno prima o sei mesi prima della scadenza per rinnovare. Con Brozovic si è fatta la stessa identica cosa con Perisic uguale, uguale cazzo, uguale identico, identico. Perisic infatti è andato via e ha andato via per quanti soldi? Per poco in più dell'Inter. Ma cos'è che ha detto a finale Coppa Italia? Basta, voglio fare una nuova esperienza ma soprattutto non si arriva all'ultimo a un giocatore chiave a proporgli il contratto. Non mi fai sentire al centro del progetto. Vado via! Vado via! Brozovic è rimasto perché probabilmente non c'era nessun altro che gli offriva 20 miliardi di dollari in più e quindi tutto sommato è rimasto l'Inter che gli ha offerto 6 e mezzo ma poteva offrirgli ben meno tipo 5 l'avesse rinnovato prima invece ha dovuto offrire 6 e mezzo a Brozovic anche lui a marzo però per uno che ti va bene altri ti vanno male è comunque una cosa che non va fatta sta roba qua per un giocatore che se tu ritieni Brozovic imprescindibile fondamentale per la nostra tattica irrinunciabile se non c'è lui crolla l'Inter non giustisce più il possesso palle eccetera eccetera non arrivi a scadenza non arrivi a scadenza facciamo sempre le solite stronzate ragazzi adesso vedo che ce la si prende con Skriniar oh svegliamoci svegliamoci non c'è nessun santo da proteggere perché c'è quel qualche dirigente che è super idrolatrato dalla narrativa dai media non si capisce perché ma poi uno guarda i fatti e vi dico che in un'azienda normale che non si tratta che non si tratta di calcio un'azienda normale del mondo reale dell'imprenditoria un dirigente che scazza così pesantemente che gestisce così male degli asset e fa perdere un patrimonio così e tutto con tutto quello che ne viene fuori anche di conseguenze indirette sulla squadra l'atmosfera lo spogliatoio i compagni e tutto quello che ci va intorno viene licenziato silurato in tronco silurato in tronco questa è la norma nel mercato non nel calciomercato la norma nelle aziende ragazzi svegliatevi questo è il punto è inutile prendersela con Skriner ora poi potrebbe essere che poi abbia avuto qualche comportamento anche non lo so è difficile da credere perché Skriner è un ragazzo così perbene così concentrato così professionista che mi viene strano anzi io penso che forse si è attemporeggiato un po' con l'Inter proprio perché in difficoltà ci teneva quasi secondo me penso io ma questa è speculazione mia cosa soggettiva impressione mia lui ci tiene all'Inter l'ha dimostrato in sei anni all'Inter senza puttanate come Icardi e quindi dice peggio di Icardi ma Icardi porca pò ma vi ricordate cosa ha fatto Icardi ogni due mesi batteva cassa ogni due mesi paventava di andare via c'era Vandana in tv ogni tre secondi dire che c'erano altre squadre interessate e lui era capitano l'Inter non l'ha messo in vendita era al centro del progetto e lui ha chiesto di Skriniar non è stato messo nel centro del progetto non è stata data la fascia da capitano se non per contentino finale così per rincorrerlo alla fine non è stato rinnovato per tempo non ha mai chiesto di andare via ha rinnovato anche senza procuratore prima e l'hai trattato così ragazzi queste sono le differenze qui mi paracchiona Skriniar Icardi veramente meritate meritate veramente Belfodil capitano a vita non so comunque andiamo avanti andiamo avanti concludendo con un altro paragone e poi ho detto Icardi ma ho detto anche Lautaro Lautaro è l'esempio perfetto l'esempio perfetto di come andrebbero gestite un po' le cose Lautaro perché ha rinnovato a 6 e mezzo Skriniar non a 6 e mezzo Lautaro non l'hai rinnovato due mesi prima della scadenza proprio per per non deprezzarlo proprio perché ritenevi che fosse importante per te proprio per non farti prendere alla gola l'hai rinnovato un anno prima un anno e mezzo prima del contratto e gli hai offerto 6 e mezzo un anno e mezzo prima non 4 e mezzo come Skriniar che avrebbe accettato 4 e mezzo Skriniar Lautaro te ne ha chiesti 6 e mezzo un anno e mezzo prima della fine del contratto ok se fosse arrivato con Lautaro alla stessa situazione di Skriniar sì no ti promettiamo ma non facciamo poi lo metti sul mercato però poi non lo vendi perché non arrivano le offerte che vuoi tu e tutto quanto rimane Lautaro te ne chiedeva 12 te ne chiedeva perché se sarebbe stato il Barcellona di turno che a zero caspita se me lo prendo Lautaro a zero guarda ti do 12 milioni netti e avrebbe accettato cioè qualcuno pensa che Lautaro avrebbe fatto in maniera diversa anzi forse Skriniar ha dimostrato nel tempo che è ancora sarebbe ancora più ancorato in realtà di Lautaro forse Lautaro è uno che comunque rinnovo l'ha chiesto poi i soldini li ha presi cioè importanti un anno e mezzo prima della scadenza non alla fine no Skriniar anche su cifre più modeste se vuoi questo è ragazzi questo è quindi questo è la situazione adesso cosa fare io per esempio non fischierei Skriniar io gli toglierei la fascia ma non per punizione che punizione vuoi dargli cioè se tu che hai gestito male la faccenda prenditi la responsabilità cazzo oppure usi la tifoseria che è inarrabbiata in generale per pararti il culo usa la tifoseria infamando Skriniar facendo ricadere tutta la colpa solamente su di lui fischiate lui così si nasconde la responsabilità della dirigenza è la cosa più infame che si possa fare è la cosa anche più più proprio più più vile che si possa fare perché la dirigenza ha scazzato palesemente e pesantemente su questa vicenda qua ma da un anno e mezzo e poi per il resto anche del mercato strategie ma lasciamo stare ha scazzato palesemente scazzato quindi se tu sai che hai scazzato e in più non tenere subito le responsabilità e dai impasto Skriniar agli squali è la cosa più schifosa schifosa che possa accettare io dalla squadra che tifo non l'accetto parliamo poi della Juventus il Milan altri valori tutto quanto l'Inter poi questa roba qua con Skriniar uno dei giocatori più coriacei più appassionati più professionali più concentrati che abbiamo avuto negli ultimi dieci anni almeno veramente ci siamo scordati tutto adesso accecati dall'ira in generale però è colpa tutta sua e non vediamo come soltanto esistite le cose ecco quello che si può fare secondo me è questo evitare di fischiare Skriniar questo è quello che io farei eviterei vorrei togliergli la fascia perché ma non per punirlo semplicemente perché non ha senso che sia capitano un giocatore che tanto andrà via scegli un altro capitano che sia uno di transizione gecko perché è esperto perché ha personalità ha dimostrato attaccamento serietà professionalità carisma ed è un giocatore importante per noi ogni volta che gioca vuoi darla a Barella perché è grintoso è italiano e punti su di lui vuoi darla a Lautaro perché è il bomber cerchiamo di coccolarcelo così che si senta il centro del progetto e magari poi non ti chiede a rinnovi fra un anno e rimane all'Inter vuoi darla ad Acerbi perché è il leader della difesa non lo so vuoi darla a Di Marco perché è interista sta dimostrando tantissima crescita tanto attaccamento non lo so quello che si vuole vuoi darla a Brozovic per anzianità quello che si vuole a me sta cosa dell'anzianità fa ridere francamente fa veramente ridere cioè che la fascia vada a Brozovic o a Lautaro o a non so ad Ambrosio per anzianità francamente è una cosa che a me fa ridere è un concetto è un metro che a me lascia un po' basito per me la fascia capitano va a uno non perché è vecchio perché lì da tanto tempo come se fosse come nelle aziende il discorso dell'anzianità ma vaffanculo conta il merito per quanto mi riguarda conta il merito cioè i comportamenti che hai chiaramente adesso è un giocatore titolare perché ovviamente quindi i meriti tecnici tecnico-tattici comportamentali e poi anche non solo quello ma anche le doti che uno ha le caratteristiche che uno ha a livello se uno trascina o no uno può essere bravissimo bravissimo sul campo super tecnico e tutto però magari magari corre anche tanto ma non è un leader e quindi non è un capitano per me questo doveva essere il metro ma vabbè lasciamo stare non voglio complicare le cose perché mamma mia siamo già sul complicatissimo questo video figuriamoci mettiamo anche questi concetti qua però questo è questo si sceglie un altro capitano perché non ha senso che sia lui il capitano e non che sia una punizione per darlo in pasto ai fischi e agli insulti perché la cosa più assurda è tra l'altro è l'epilogo di questo giocatore all'Inter più assurdo che avrei mai immaginato è più ingiusto anche secondo me secondo me è anche ingiusto perché la situazione è molto complessa e l'ho spiegata se anche screener possa può aver fatto qualche qualche malinteso qualche comportamento non congruo a parte che stanno venendo fuori una marea di fake news poi smentite però chiaramente anche l'influencer vai con la fake news vai con la lite vai col fatto che ha fatto una rissa vai che ha fatto un sacco di stronzate solo perché adesso paga adesso paga tanto paga dire che è il pezzo di merda più gigante del mondo e quindi paga vai scateniamo un sacco di stronzate poi smentite la smentite però non se la caga nessuno nessuno dice oh è smentita sta roba qua era una fake news nessuno nessuno cioè è una cosa veramente agghiacciante è uno per quanto mi guardo è uno schifo sta roba qua comunque ecco sfogo un po' diciamo il mio di cuore non di pancia attenzione c'è differenza di cuore il mio sfogo ma c'è tanta testa e c'è una logica c'è un ragionamento non è che sono parole al vento buttate lì per istinto mi dispiace molto però attenzione voglio specificare una cosa c'è l'inter anche dopo screener cioè non è che io parlo così che non venga qualcuno a dirmi che sono pro screener e amante tutte queste stronzate qua che non venga qualcuno a scrivere queste cose qua perché per quanto mi riguarda screener si può vendere io l'avrei venduto anche gennaio non ho nessun problema il fatto che vada via per me non esiste nessun giocatore che è imprescindibile o che deve sempre rimanere all'inter cioè l'inter prima di tutto i giocatori passano vengono rimangono passano magari puoi sperare che qualcuno possa rimanere un po' di più qualcuno meno gagliardini un po' meno insomma ma è rilevante cioè non mi attacco a nessun giocatore non ho preso neanche la maglia di screener queste due maglie qua sono col mio nome perché io so che almeno interista in teoria in teoria rimarrò a meno che l'inter proprio mi rompa le palle e allora magari decido di tifare il Monza no sto scherzando però Monza perché ha battuto la igua però a parte questo cioè capite non mi attacco ai giocatori per me non è quello il problema il punto è fare le cose giuste sono molto più arrabbiato per la gestione screener in quanto asset dell'inter gestito di merda che ha influenze negative poi sul campo sull'ambiente sulla tifosaria sul patrimonio dell'inter quindi sul conto economico e sul fatto che poi non l'hai sostituito a dovere prendendoci almeno dei soldi tra l'altro no se l'inter accettava 10 milioni adesso e riusciva a prendersi per esempio non so Thiago Diallo e lui chiedevano tanto però facciamo finta facciamo finta che fosse prendibile a una cifra congrua oppure potesse arrivare non so Pavarda una cifra congrua perché è oppure potesse arrivare il giocatore dello Stoccarda difensore secondo me fortissimo fortissimo però non è in scadenza voglio dire lo conosco bene perché seguivo Borna quindi conosco anche altri due tre giocatori dello Stoccarda però il punto è questo se si fanno le cose giuste per me Scrinia può partire anche adesso può partire anche l'estate se si facevano le cose giuste se si facevano gli acquisti giusti alle cose con il senso giusto chiaro che in estate preferivo altri scenari infatti e poi questa cosa mi ha dato ragione mi ha dato assolutamente ragione bisognava fare altre scelte perché alla fine questa roba qua è gestita di merda e alla fine sei è arrivato che Scrinia lo perdi e in più non hai fatto neanche le preso valenze quindi vorrà dire che dovremmo pagare di più ancora lo scotto perché bisognerà vendere due giocatori adesso no uno uno solo magari due più un altro in estate perché dovrei venderne due per fare più su valenze bisogna fare almeno 40 milioni di più su valenze entro giugno e Dunfries non so se si rivaluta ancora di più oppure perde il prezzo perché se perde ancora un po' di prezzo di valutazione capace di vendere Brozovic e Dunfries per questo bilancio e dall'1 luglio si riparte con un'altra solfra perché bisognerà fare altri 60-70 milioni di più su valenze sappiatelo ve lo dico in anticipo ve lo dico in anticipo tanto il bilancio lo conosco l'abbiamo già studiato assieme quindi sarà così quindi bisognerà vendere pure un altro barella per questo perché non hai fatto un'altra panoramica quest'estate che io ero qua stupido mona criticato coglione a spiegare oh facciamo così blinda screener e fa quest'altra cosa sistemiamoci non ci sono più problemi e si può far mercato ci ripotenziamo facciamo delle altre scelte non paghiamo la competitività abbiamo sanato il discorso bilancio e fine dei discorsi no cazzo no cazzo quindi questo testimonia ancora di più al 750% che bisogna ragionare con la capocchia e non con il culo detto questo ragazzi che posso dire stiamo vicini all'inter appello finale che dovrebbe essere dovrebbe essere all'inizio del video in realtà probabilmente perché tanta gente adesso non ci arriva neanche a questo punto nel senso ci arrivano in pochi anzi quelli che arrivano qui quelli che mi ascoltano e capiscono quello che dico magari non tutti sono d'accordo in ogni cosa ma l'importante è che abbiate lo stesso metro di ragionamento e capiate il concetto che esprimo commentate nei video perché io lo so benissimo che le persone che ragionano come me che ascoltano che ascoltano i video apprezzano poi non commentano perché ci sono uguali a voi uguali a voi quando siamo d'accordo non commenti e commentano quelli più invece disadattati non sempre sono anche alcuni che commentano però è così commentate ho bisogno di vedere che c'è gente che usa la capocchia che usa la testa fatevi vedere io poi magari non rispondo ma leggo vi assicuro che leggo ogni singolo messaggio scrivete dicevo concludevo l'appello finale l'appello finale è questo stiamo con l'Inter non fischiamo nessuno creiamo un ambiente allo stadio bello tifiamo sosteniamo la squadra perché ne abbiamo fottuto a mente bisogno per questa situazione colpa di screener colpa di gente come fai con cazzo l'Inter pagherà ancora di più Inzaghi ha una situazione bollente in mano sosteniamolo sosteniamo lui in primis ma anche la squadra non facciamo i bastiani contrari come sento vari canali e tutto che continuano a bombardare sui giocatori su Inzaghi continuamente perché cioè ci spacchiamo la faccia così tolto su un muro a 150 km orari sosteniamoci compattiamoci tifiamo e siamo positivi che alla fine la stagione è in piedi fino adesso cerchiamo di non farla andare a rotoli per questa roba qua perché creiamo un disastro sul web e allo stadio vi prego concentriamoci sull'Inter perché se è vero che l'Inter rimane sempre ed è la cosa più importante che sia veramente così non ha parole ma ha fatti ora è il momento di essere interisti fino al milollo e sostenere la squadra dare carica dare linfo alla squadra ne ha tanto bisogno ragazzi per questa situazione qua ancora di più del solito ragazzi intanto vi saluto sono rimasto dentro i 30 e vai commentate condividete vi abbraccio tutti e mi raccomando Forza Inter per stasera mi raccomando grazie a tutti